non c'andare con la ragazza si e viceversa non mandare la tua ragazza lo dico per esperienza personale non lasciarla neanche da solo in camera e tu vai a fare snorkeling che fai la fine di jason derulo esatto allora ragazzi tutto bene ci stiamo? quant'è che non ti fai un check up? io? si ciao